E' stato presentato ad Arezzo il 23esimo rapporto sull'economia globale e l'Italia, curato dal Centro Inaudi e sostenuto da UbiBanca. Come è andato questo rapporto? Questo rapporto direi che è andato molto bene, siamo già alla trentesima presentazione, abbiamo iniziato il 21 gennaio e finiremo a Roma nel mese di giugno. Rivolto racconta i vari trend macroeconomici e geopolitici dei 12 mesi prima con un focus particolare sull'Italia. E poi è logico che tutto ciò che succede a livello di trend sia macroeconomico che geopolitico va a influire poi sul discorso del territorio. Direi che è una buona chiave di lettura in un mondo che sta cambiando e bisogna capire come cambia per essere sempre pronti a far sì che si possa sviluppare meglio il territorio. Un rapporto che ha un titolo di grande rilievo, il mondo cambia pelle, quali sono i principali cambiamenti che rileva questo rapporto? Fondamentalmente sono tutti problemi legati alla struttura del mondo del lavoro, cioè la crescita del lavoro a tempo determinato, la crescita del lavoro part time, queste cose qui. Altrimenti detto, la fine del vecchio mondo che veniva chiamato Fordista, che era quella delle grandi fabbriche, delle concentrazioni operaie, dove le differenze di retribuzione erano relativamente modeste, con un mondo che è più contorto, ha delle maggiori differenze retributive, ha dei lavori che sono intermittenti, questo implica un ripensamento del sistema pensionistico, perché se io ho dei lavori intermittenti non ho dei versamenti continui e via andando. Quindi questa è la cosa maggiore che peraltro è in tutti i paesi occidentali. Cioè da noi, diciamo così, se vogliamo è messa peggio, ma non è così peggio che da altre parti e non è che gli altri questi problemi non li abbiano. Se così non fosse, tutta una serie di malesseri che si vedono in giro per il mondo non ci sarebbero. Non ci sarebbe Trump che rappresenta gli operai bianchi, non più giovanissimi, vittime dell'acciaio cinese e via enumerando. Ecco, questo è il problema principale. Come riuscire a gestire un'economia che divarica i vincitori da, diciamo, gli sconfitti o i meno vincenti. Questo è il punto di tutto. Quali sono anche le possibili risposte a questi problemi, anche in relazione alle sfide che pongono anche ai territori locali? Beh, lì dipende da territorio a territorio, perché per esempio in Italia la differenza fra nord, centro e sud è marcatissima. Allora, questi problemi sono meno rilevanti a Milano che a Catanzaro. L'Italia è un paese, si ragiona normalmente per medie, però le medie sono significative se i diversi punti di osservazione di una media sono vicini. Che è poi la storia dei poli di Trilussa. Per esempio, in Italia, se lei prende la produttività, lei vede che la produttività italiana è più bassa di quella tedesca e francese, ma molto più bassa. Se però poi divide la produttività per classi dimensionali, lei vede che le imprese italiane dai 250 occupati in su sono più produttive di quelle tedesche. Quindi non è vero che l'Italia è un paese di persone che devono lavare le cozze pelose e servire spaghetti con le cozze, perché laddove la dimensione di imprese è significativa, gli italiani sono molto efficienti. Quindi bisogna stare molto attenti a non ragionare per medie. Lo stesso vale per l'evasione fiscale, per tutta una serie di cose. Quindi bisogna vedere realtà per realtà. Io non conosco la realtà di Arezzo e quindi non saprei che cosa dire, salvo che vedo che è un posto di benessere.